E intanto è partita con successo la festa in onore della Madonna delle Grazie, con una mostra al chiostro, con la visita alla casa di riposo dei Benedictis, ma il programma prevede tante altre manifestazioni fino ad arrivare al giorno clu che è il 2 di luglio. Sì, ieri sera ci sono stati i singers, un coro nuovo per la nostra città, la sala del Rettorato era strapiena, qui la fortuna delle nostre iniziative è che possiamo farlo sia all'aperto che al chiuso, quindi anche se dovesse piovere le iniziative si fanno a prescindere. E quindi niente, il programma civile in appoggio alla festività religiosa prosegue come è stato distribuito e come parecchi cittadini conoscono. Quali sono gli appuntamenti di rilievo che poi portano la manifestazione fino al giorno clu? Beh, gli appuntamenti, qui ci sono altri due concerti, c'è il Corvo Oxauro, il concerto del Maestro Franco di Donato Antonio, c'è la presentazione di libri, tutta una serie di iniziative. In contemporanea c'è questa mostra bellissima di più di 60 pittori della nostra provincia, il clu, naturalmente il 2 di luglio con le cerimonie religiose, in più la sera la banda in mattinata sotto i portici del Gran d'Italia, il mattinè anche alla casa di riposo, i fuochi, tutto quello che congerne la tradizione perché noi non siamo voluti uscire fuori dalla tradizione di questa festività perché ci sembrava come un'associazione culturale che questo dovesse essere il nostro compito.